Noi siamo le persone, e questa sera con noi abbiamo le... TETTE! No, se ne sono una lingua, il petto è il petto, è falle vedere, se lo potrei vomitare il coltello. Ok, io direi che basta. Commenti di farina? Commento di farina? Non falle vedere. Cosa da dire? Quello è un dolce mitato minore di ciò. E' un dolce mitato minore.